Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico nutto in Italia, la terribile notizia è arrivata poco fa in redazione. Purtroppo Rosolino non ce l'ha fatta, l'ennesima vita ha abbandonato il mondo terreno. Familiari e amici in lacrime. Un 22enne è stato ferito con colpi di pistola a Palermo, in via Pasquale Calvi. Secondo quanto reso noto, la vittima della sparatoria si chiama Rosolino Celesia ed è stato ferito dopo una lite avvenuta intorno alle 3 di notte di ieri. Trasportato nell'ospedale Alcivico, probabilmente da qualche conoscente, è morto poco dopo il suo arrivo. Sono attualmente in corso le indagini della squadra mobile di Palermo. Stando a quanto reso noto, la sparatoria si sarebbe verificata nella zona tra Via Libertà e Borgo Vecchio intorno alle 3 di notte. La dinamica dei fatti è ancora da delineare. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato ferito a colpi di arma da fuoco nei pressi di una discoteca dopo una discussione. La strada è stata chiusa per consentire subito i rilievi di rito.